No, so, chmell. Cosa è successo? Bene le statistiche. Pensa al mondo, tutte le volte che io respiro muore un uomo. Tutte le volte? Tutte le volte. Provi a fare qualcosa per l'alito. Sarà il peggio. Si sente che è da qua un po'. Ma cosa mangia adesso i faccioli dei topi morti? È uscito su Amazon il libro Non Solo Loris Batacchi. Compratelo, vi piacerà.